Io confido per l'estate di restituire questa stupenda piazza finalmente a tutti i cittadini di Quinto e magari dedicarla anche a tutte quelle persone che hanno supportato qualche piccolo disagio. Riprendono i lavori in centro a Quinto di Treviso, interventi che porteranno alla chiusura della viabilità in Piazza Roma e di un tratto di via Ciardi. Disagini evitabili, spiega il sindaco Mauro D'Alviglio, che invita i propri compaesani a portare un po' di pazienza per la durata dei lavori che sono necessari. I lavori da ultimare sono esclusivamente le pavimentazioni, pavimentazioni che abbiamo dovuto sospendere alla fine anno per la situazione climatica perché le pavimentazioni non ci venivano garantite se non venivano eseguite e maturate con una temperatura che non scendesse sotto i 5 gradi centigradi. Non sono questi gli unici lavori messi in cantiere a Quinto? Noi oggi stiamo lavorando all'incrocio del Capitello, che è quello vicino all'asilo, stiamo sistemando quell'incrocio con una piccola rotatoria. Altri lavori importanti che noi abbiamo in programma per quest'anno sarà la realizzazione della rotatoria che abbiamo all'incrocio di via San Bernardino a Santa Crestina. Ci stiamo preparando tutta la documentazione che serve anche per il rifacimento degli spogliatoi degli impianti sportivi di Quinto. Come sappiamo abbiamo vinto un bando, quindi un finanziamento della regione di 200 mila euro e andremo a fare interventi per quasi 300 mila euro.